Ciao a tutti, in questo video ve lo presentare una poesia di Giovanni Raboni, Non di questo presente ora bisogna. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo alla poesia di Giovanni Raboni, Non di questo presente ora bisogna. Non di questo presente ora bisogna vivere, ma in esso sì, non c'è molto, pare, d'averne un altro, non c'è chiodo che scacci questo chiodo, né a chi sogna va meglio. Che le più volte si infogna a figurarlo, e più fa groppi al nodo e cerca di disfarlo, sta nel todo che si crede nel nada sempre, o agogna. Ma con che lama, troncarlo, la mente infortunata non ha altra forma, dunque, che nel pensiero. Certo, niente più, la mia si consola che in una disposizione è un offertorio, gente dispersa, solennemente saduna. Bene, molto interessante questa poesia, anche ermetica, che fa capire come questo mondo liquido si sta evolvendo. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!